buon pomeriggio a tutte amiche amici benvenute o bentornate sul canale per un nuovo video allora oggi è sabato sono sola per qualche ora per cui ho deciso di registrare il video dei top flop del mese in realtà sono tutti top per cui il video lo chiamerò top beauty del mese di maggio all'interno della lista c'è anche qualche prodottino che sotto certi aspetti non mi ha convinta al 100 per cento però non posso dire che non siano prodotti promossi per cui diciamo che sono tutti top ho inserito tutto all'interno del mio solito cestino sono all'incirca sono 13 prodotti io non inserisco tantissimi prodotti all'interno di questo di questa tipologia di video perché questo secondo me è il video ideale in cui si possono approfondire un pochettino di più appunto i prodotti a livello di ingredienti formulazioni texture profumazioni e quant'altro sempre tenendo presente che io non sono né un chimico né tantomeno un dermatologo per cui posso parlare dell'esperienza di questi prodotti come consumatrice poi magari vi riporto qualche informazione aggiuntiva che tendo a prendere nei siti delle case produttrici dei prodotti perché comunque sono informazioni secondo me più attendibili però a volte mi capita di no per cui di non trovarle per cui vi riporto diciamo delle informazioni che io reperisco su da internet eccetera su questi prodotti e quindi comincio a farvi vedere tutto allora comincio dai prodotti corpo come al solito poi andiamo mani labbra e poi alla fine vi faccio vedere i prodotti viso che sempre secondo me sono le cose che mi mi gasano di più ecco allora all'interno di questo video generalmente non metto mai dei bagno schiuma perché è difficile che un bagno schiuma proprio mi colpisca a livello olfattivo e a livello sensoriale soprattutto nella grande distribuzione nei low cost cosa che invece è successo con questo nivea bagno doccia creme aloe è in un flacone da 650 ml dice formula biodegradabile con aloe vera naturale fresca fragranza ok buonissimo mi piace tantissimo è ottimo perché allora una consistenza in gel leggermente cremosa abbastanza fluida diciamo produce nel momento in cui si va a stendere sul corpo una cremina leggerina proprio che non secca assolutamente la pelle e in più ha questo profumo che mi fa impazzire molto fresco non saprei neanche come descrivervelo probabilmente è aloe e devo dire che a me il bagno schiuma all'aloe per quanto riguarda l'estate piacciono molto perché mi piace molto anche il vidal all'aloe ma questo forse ancora di più ha questo profumo profumo gradevolissimo è anche rinfrescante quindi adesso che comincia a fare caldo sinceramente è un ottimo ottimo bagno schiuma mi ha colpito molto perché ha tutto secondo me appunto una bella crema morbida non secca un buonissimo profumo e costa pochissimo perché io questo flacone penso di non averlo pagato più di un euro in offerta però adesso poi se non è in offerta forse costerà sui due euro non ho idea comunque sempre molto poco ah mi sono anche presa degli appunti ovviamente sui prodotti che ho qui in un quadernone e cerco ovviamente di andare in ordine no già ho sbagliato perché vi ho parlato prima del bagno doccia e avevo messo prima il detergente intimo ma vabbè non importa sapete che inserisco sempre i detergenti intimi all'interno di questo video perché io sono una donna che sta diciamo traghettando verso la menopausa a 52 anni scusate a ottobre compirò 52 anni credo di ormai di esserci quasi perché ho avuto l'ultimo ciclo a gennaio ma non lo so se li rivedrò più sinceramente mi mancano però purtroppo è così è la vita è la natura bisogna accettarla e quindi cerco io non ho particolari problemi come ho sempre detto vampate non so cosa siano secchezza vaginale non so cosa sia però ho il problema dell'irritazione se uso dei detergenti aggressivi e quindi vado sempre cercando quei detergenti un po lenitivi che non alterano altero alterino il ph delle mucose e che appunto non mi diano prurito irritazione questo mese ho messo in uso questo della bioniche defense triderm intimate nella versione lenitiva a ph neutro dice ph 7.0 per pelle sensibile e intollerante allora questo detergente intimo è buonissimo è buonissimo ha una consistenza in gel leggermente anche questa lattiginosa ha un gradevolissimo profumo proprio buono di pulito proprio deterge benissimo la parte intima senza alterare le mucose senza creare irritazioni anzi le previene perché contiene l'acqua distillata di fiordaliso e l'acqua distillata di mirto l'acqua distillata di fiordaliso ha delle proprietà lenitive e disarrossanti mentre l'acqua distillata di mirto ha delle proprietà lenitive e calmanti e in più contiene anche un agente antiodore infatti ha una gradevolissima profumazione che permane poi devo dire nelle parti intime non fa parte di quei detergenti che danno fresco diciamo nelle parti intime ma a me non importa intime intime scusate ma a me non importa perché comunque mi piace molto e poi come ingrediente base contiene l'alfa bisabololo che è un componente dell'olio essenziale di camomilla che ha l'azione lenitiva ho letto anche che ha indicato chiaramente sia per le bambine e sia appunto per le donne in menopausa per questa questo ph neutro che aiuta diciamo a a far sì che i batteri non proliferino all'interno insomma nelle parti intime e sappiamo che i batteri sono responsabili di tutte le vaginosi piuttosto che le irritazioni prurite e quant'altro ottimo tra l'altro ragazze costa pochissimo perché se consideriamo che è un prodotto da farmacia sono 250 ml io qui dice prezzo specchi consigliato 490 ma ho visto che si trova anche sui 3 euro sinceramente considerando che molti detergenti intimi della grande distribuzione costano queste cifre qui non lo so quanto valga la pena comprare un detergente intimo di grande distribuzione se la farmacia mi dà un prodotto ottimo come questo a 3 euro perché io online l'ho visto anche a 3 euro sicuramente l'avevo comprato alla medimarket sicuramente se lo ritrovo in offerta questo qui a giro lo ricompro sicuramente ok del detergente intimo abbiamo parlato passiamo a uno scrub corpo che sta utilizzando che mi sta piuttendo molto ed è questo dermolab esfoliante corpo scrub purificante rigenerante per tutti i tipi di pelle questo lo avevo pagato da tigota circa 6 euro e 95 non mi ricordo se 5 96 e 90 in un tubone da tubone in un tubo da 200 ml e forse un po caretto come scrub però devo dire molto buono e molto efficace allora qui come consigli di utilizzo dice massaggiare su pelle asciutta e risciacquare con acqua tiepida utilizzare due o tre volte alla settimana e sono d'accordo perché questo scrub che è in gel è uno scrub in gel quindi non ha una componente oleosa diciamo dalla sua massima performance secondo me su pelle asciutta perché i granuli si attaccano bene alla pelle e la sfogliano bene alla perfetta oddio non posso dire alla perfezione perché secondo me un geomore un equilibrio scrabba di più però li sfoglia bene devo dire sfoglia bene la pelle però su pelle asciutta perché su pelle bagnata o troppo umida scivola e non il grano li scivolano e non si riesce sinceramente a massaggiarlo bene per cui è giusta questa dicitura che dicono questi laboratori dermolab di utilizzarlo su pelle asciutta comunque molto buono si trova nella grande distribuzione vi dico che cosa contiene perché anche su questo qui mi ero presa degli appunti contiene un mix di acidi della frutta che sono il mirtillo arancio limone e canna da zucchero e più delle sfere di perlì di perlite appunto che sono costituite appunto da appunto appunto da questi microgranuli e e poi anche acido ialuronico ad alto e basso e alto scusate medio peso molecolare infatti non secca per niente la pelle devo dire ottimo ottimo prodotto che se lo trovo a un prezzo buono sicuramente ricomprerò in più e senza alcol e è anche un gradevolissimo profumo devo dire non permane molto sulla pelle ma comunque a un gradevole profumo quindi promosso anche questo poi vado in ordine allora vi parlo della crema mani che sto utilizzando in questo periodo che era contenuta in questo cofanetto che avevo preso sempre alla m di market con anche il burro di cacao di cui vi parlo dopo ed è di api vita questo era il cofanetto b protective jasmine dove all'interno era contenuta questa crema mani alla propoli e e gessomino no proprio il gessomino scusate forse mi sto confondendo con scusate vivita crema al gessomino e propoli si no avevo detto giusto eccola qui in un tubo da 50 ml allora cosa dire di questa crema mani sicuramente non buona crema mani dalla texture molto leggera non fluida diciamo leggera è buona nutre bene le mani come molte creme mani su di me fa un po fatica ad assorbirsi quindi io la uso onestamente la sera perché per un po mi lascia quella sensazione un pochettino di un ticcio però poi le mani rimangono idratate e morbide a lungo previene anche le secchezze però c'è da dire che adesso estate io non soffro particolarmente di secchezze alle mani più d'inverno queste cose però devo dire che è un ottimo prodotto anche se la profumazione a me non fa impazzire però questo è un discorso molto soggettivo e onestamente non posso bocciare questo prodotto metterlo nei nì solo per la profumazione perché comunque non è una profumazione sgradevole lo metterei nei nì se la profumazione fosse sgradevole o non la tollerassi in qualche modo invece no devo dire che non è male come ingrediente contiene vali oli e burri vitamina e e pantenolo e attivi antiossidanti quindi in teoria dovrebbe avere anche un'azione anti age adesso io tutte queste azioni anti age nelle creme mani non le vedo però comunque diciamo che male non fa in più non contiene acqua e questo ha notato che una caratteristica di molti diciamo di molte formulazioni dei prodotti apivita che comunque sono dei prodotti ottimi perché ce ne sono altri due che vi farò vedere adesso ed è un brand sicuramente da esplorare meglio perché fa dei prodotti fantastici dicevo a questa caratteristica che appunto è contemplata anche in altri prodotti che non c'è acqua all'interno dell'inci ma un infusione in questo caso di questa crema mani di tè biologico di montagna greco con azione antiossidante cioè loro non mettono nell'inci l'acqua da quello che ho capito adesso io qui non leggo però ok dovrebbe essere così perché comunque l'ho letto ho reperito queste informazioni sul mi sembra sul sito della casa produttrice della crema sulla pivita insomma e niente ottima comunque ci sono anche altre profumazioni per cui per esempio adesso che so che questa profumazione non mi fa impazzire la crema comunque è ottima e buona me ne comprerò un'altra magari quando capito alla medimarket che voglio comprarmi una crema mani con un'altra profumazione che magari gradisco di più e questa è la crema mani poi parliamo passiamo e parliamo di un prodotto fantastico che mi ha veramente stupita ed è un prodotto della bioderma e questo qui è veramente un prodotto superiore non saprei come definirlo ed è questo spray atoderm ss anti grattage insomma anti prurito allora allora questa emulsione anti prurito costa su circa sui 10 euro è un emulsione olio in acqua sono 200 ml ml di prodotto e ha una texture ultra leggera ma adesso magari ve la faccio vedere scusate no non c'è un tappo non so se potete vedere vedete si è già assorbita abbastanza diciamo allora fantastica fantastica perché allora io l'ho usata un giorno che avevo le gambe la pelle delle gambe irritata perché avevo tenuto un po troppo sulla crema depilatoria a volte mi succede che magari faccio altre cose quindi la crema depilatoria sono un po irritanti io ho spalmato questo ho spruzzato e spalmato questa su tutte le gambe l'irritazione mi ha sparita in 30 secondi qua dice 60 secondi però ragazze questo è vero c'è un prodotto che fa quello che promette veramente ottimo ma infatti poi mi sono andata a informare sul sito ragazzi su questi prodotti c'è uno studio dietro di dermatologi addirittura ho letto che è stato studiato in seguito all'identificazione di due mediatori del prurito presenti nella pelle atopica nella pelle con psoriasi e nelle pelli che in generale tendono ad avere irritazione in più contiene dei complessi dei brevetti loro insomma che sono talmente difficili che non ve li riporto qui ad ogni modo che proteggono anche dai batteri che causano il prurito e poi contiene l'estratto di ambra e di tè verde e le noxolane spero di averlo detto giusto che è un ingrediente attivo appunto con il prurito ragazze questo qui veramente mi ha colpito tantissimo ve lo consiglio per chi ha problematiche di questo tipo veramente un prodotto top ma devo dire che tutto quello che ho provato di bioderma adesso mi viene in mente lo shampoo di cui vi avevo già parlato veramente fa dei prodotti fantastici a me non aveva mai diciamo attirato più di tanto più caldo per il packaging perché chiaramente tutti noi consumatori veniamo attratti molto dal packaging però devo dire ragazze che se si va oltre questa cosa che è comunque una cosa molto superficiale e molto futile questo è un brand sicuramente da esplorare che fa dei prodotti fantastici buonissima forse il prodotto che più mi ha stupito insieme al detergente viso che vi faccio vedere dopo di tutti questa di tutta questa lista di prodotti buonissimo mi pare di avervi detto tutto su questo biodermatoderm ss spray poi andiamo un prodottino per i capelli di grande distribuzione che ho comprato al dm ed è questo olietto della balea per i capelli della balea professional suite paradise questo me lo aveva consigliato la simona del canale simons loss makeup non credo che guardi i miei video però in ogni modo se casomai mi sta guardando le do le mando un saluto un bacio e e la ringrazio per avermelo consigliato perché è un olietto buono io lo uso gli olietti li uso come finish dopo che ho asciugato i capelli devo dire che rende i capelli morbidi lucidi anche un olietto non abbastanza denso però non è pesante e ha un gradevolissimo profumo contiene olio di fatto con olio nutriente di lecitis ragazze che non so che cosa sia dice per capelli sfibrati la formula nutriente leggera non appesantisce i capelli donando pettine abilità morbidezza e lucentezza è vero questo se lo trovate al dm sono ricordo sui 4 euro più o meno è un buon prodotto devo dire che come oli per i capelli ho provato di meglio però considerando il rapporto qualità prezzo è un ottimissimo prodotto e ve lo consiglio poi andiamo avanti questo qui vi parlo dello struccante occhi che sto utilizzando in questo momento e quindi già passiamo al viso e lo struccaggio la detersione eccetera era questo bioniche defense struccante occhi bifasico eccolo qui per chi ha guardato i miei video se lo ricorda che l'avevo fatto vedere sono 150 ml di prodotto e dice struccante occhi bifasico per pelle sensibile intollerante allora si sottoscrivo perché è delicatissimo strucca benissimo con una sola passata cioè io prendo il dischetto di cotone lo agito vabbè come fanno tutti del resto lo metto bisogna tenerlo un po dopodiché si comincia a rimuovere rimuove tutto in un nanosecondo senza appannare la vista senza irritare eccetera forse l'unico aspetto un pochettino meno positivo è il prezzo innanzitutto perché questo flaconcino da 150 ml a prezzo intero costa 16 euro circa 16 euro però si può trovare in offerta secondo me se si trova all'incirca sui 10 euro vale la pena provarlo e e poi forse che leggermente un tuo setto c'è una componente lipidica abbastanza presente però a me non dà fastidio perché poi dopo io risciacquo tutto magari ecco se vi danno fastidio detergenti bifasici troppo oleosi questo è un prodotto che non farebbe diciamo al caso vostro ad ogni modo promossissimo e mi piace molto e ve lo consiglio se lo trovate poi andiamo avanti con il tonico che sto utilizzando in questo periodo allora io d'estate in genere faccio una skin care sia purificante esfoliante più purificante diciamo che esfoliante e inserisco la vitamina c perché questi due la vitamina c come attivo io la pelle che tende un po ingrigirsi quindi me la illumina molto e quindi mixo questi due attivi diciamo purificanti attivi illuminanti come la vitamina c in questo periodo sto utilizzando questo tonico della joe e in questo flacone da 200 ml saranno sì di prodotto che avevo comprato non mi ricordo se la medimarket o nella parafarmacia del conad costa all'incirca 10 euro vedete sono qui devo dire che mi piace è un buon prodotto perché regola molto bene la produzione di sebo quindi è veramente purificante anche abbastanza strong come tonico l'unica cosa non mi fa impazzire la texture e perché è un po secondo me pesante e se se ne usa troppo tende un pochettino a fare schiumetta ad appiccicare però il segreto è usarne molto poco e dicevo il profumo non mi fa impazzire però non è che la posso bocciare né tantomeno metterla nei nì perché comunque non è un profumo sgradevole assolutamente a me non fa impazzire però non è assolutamente un profumo sgradevole vediamo che cosa avevo scritto sul tonico di joe allora è un tonico che contiene il 99 per cento di ingredienti di origine naturale e come attivi ha i lumi i lumi fenoli che hanno proprietà antiossidanti il lotto sacro e l'estratto di albero di tè e l'estratto di lenticchia comunque ragazzi è buono i prodotti joe devo dire che sono validi adesso non sono le cose migliori secondo al mio avviso che si possono trovare sul mercato però devo dire che questo tonico è buono e io lo promuovo poi ho già parlato per 22 minuti comunque siamo 123 mancano 45 prodotti allora arriviamo alla meraviglia delle meraviglie che sto ho comprato da una decina di giorni lo sto però lo sto utilizzando sempre mattina e sera perché questo è stato un vero colpo di fulmine e sto parlando di questo ap vita cleansing gel gel purificante al lime e propolis eccolo qui in un flacone da 200 ml ragazze che dire di questo detergente mi ha stupita è buonissimo perché lascia la pelle perfettamente detersa pulita a fondo in maniera molto delicata non secca assolutamente a un gradevolissimo profumo e inoltre ho notato ed è stata questa forse la cosa che mi ha stupito che io dopo l'uso ho la pelle tonificata cioè mi sento la pelle più tonica e questo chiaramente da un detergente mi stupisce è buonissimo ma devo dire che ap vita qui è un brand veramente da esplorare perché mi esalta allora vi dico che cosa contiene come attivi appunto l'estratto di lime che ha un'azione anti sebo infatti tiene a bada la produzione di sebo i pori eccetera e gli oli essenziali di ginepro di tea tree e limone anche questi che hanno diciamo delle a un'azione purificante sulla pelle e poi contiene anche l'estratto di propoli che ha un'azione antisettica infatti viene diciamo decantato anche come prodotto anti inquinamento detox in più contiene il frutto di rosa l'estratto di frutto di rosa canina per un effetto appunto detox e ha una piacevolissima appunto come dicevo fragranza erbacea fruttata buonissimo ragazze anche questo non ha l'acqua e mi ricollego a quello che dicevo sulla crema mani ma un infuso detox di frutti di rosa canina quindi evidentemente ap vita per fare questi prodotti non mette nell'acqua nell'inci anche se qui io la vedo però ragazzi io ho letto così non lo so poi chiaramente non sono non sono un chimico per cui non vi so dire ho letto così nel sito di ap vita però poi qua io leggo acqua per cui non so ad ogni modo ragazzi io vi parlo da consumatrice buonissimo 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 tra l'altro costa su 10 euro quindi poco per un prodotto fantastico secondo me come questo a volte ho visto che ci sono delle offerte si può trovare all'incirca anche sui 5 euro top 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 comunque no mi correggo un attimo su quello che avevo detto l'estratto di propoli ha azione antisettica mentre l'estratto di fruso di rosa canina ha questo effetto detox ok questo qui è il gel detergente che sto utilizzando poi andiamo all'essence che sto utilizzando in questo periodo perché ce l'avevo un po nelle scorte e chiaramente dovevo smaltirla a me premetto che non mi fa impazzire al verde però questo prodottino non è niente male e sto parlando di questo al verde perfecter tint scritto tutto in tedesco in sostanza è un acido ialuronico c'è un essence vedete a questa consistenza fluida allora si assorbe bene non appiccica idrata non rimpolpa secondo me non ha un effetto anti age però sinceramente per quello che costa io ve lo consiglio l'unica cosa anche qui non mi fa impazzire la profumazione però mi sento comunque di metterlo nei top perché questo è un prodotto che costa meno di 5 euro e onestamente non è niente male per cui per chi ama il biologico sinceramente io questo lo consiglio e si trova come sanno tutti al bm e questo qui è il al verde perfecter tint essence poi parliamo del siero che sto utilizzando in questo periodo che è un siero di codali che avevo comprato in quella imbarcata di cofanetti che avevo fatto dopo natale ed è il codali v energeti c più più si era la vitamina c antifatica siero e viene vitamina c dice energy serum eccolo qui come vedete l'ho già usato già abbastanza perché sono qui sono 30 ml di prodotto allora faccio una doverosa premessa me in generi seri lattiginosi non fanno impazzire ma questo devo dire che mi sta piacendo molto vi faccio vedere la texture come vedete è lattiginosa fluida lattiginosa si assorbe bene questo aspettate lo spalmo di qua perché di là c'era il profumo dell'altro ha un non ha profumo assolutamente e si assorbe bene sulla pelle non appiccica leggero e devo dire che in questo periodo noto proprio la pelle luminosa meno stanca per cui siccome sto utilizzando questo tutte le mattine e sono già qua direi che gli possiamo anche dare il merito di questa cosa forse anche al fatto che dormo meglio però buono veramente buono vi do qualche informazione aggiuntiva su questo siero allora vediamo sì il codali il siero ha il 98 per cento di ingredienti di origine naturale e come attivi contiene acido di aluronico di origine naturale infatti è un siero che idrata la vitamina c stabilizzata ben quattro volte infatti proprio noto sulla mia pelle questo effetto illuminante e i polifenoli che hanno un'azione antiossidante devo dire ottimo ottimo siero e potrei pensare di ricomprarlo anche se io prediligo comunque come vi dicevo siero in acqua più di una texture acquosa soprattutto d'estate però teniamo presente che l'ho utilizzato in questo periodo che già comincia comincia a fare caldo non è assolutamente pesante come quello mi viene in mente quello di balea in confronto c'è un abisso hanno più o meno la stessa texture lattiginosa ma quello proprio pesante sulla pelle questo proprio è come mettere niente è buono è buono molto buono devo dire poi questo me ne ho parlato vitamina c allora vi faccio vedere un altro prodottino di apilita che è un prodotto che avevo comprato sempre in questo cofanetto ed è questo lip balm alla black corrent che è ribes nero eccolo qui in questo packaging molto vintage vintage carino insomma ed è colorato quindi colora leggermente le labbra però devo dire che è molto buono vedete si vede colora leggermente le labbra è molto buono perché si aggrappa bene alle labbra le nutre e le nutre a fondo ecco quindi sì è un balsamo colorato però appunto fa quello che deve fare cioè idata e nutre le labbra io le labbra particolarmente secche per cui sono molto esigente con i prodotti labbra in genere boccio tutto cioè proprio non mi piace anche alcuni prodotti all'inizio mi piacciono poi sulla lunga non mi piacciono più cioè sono molto esigente questo però lo promuovo perché comunque un buon prodotto apilita come vi ho detto fa delle cose top il cofanetto era questo e conteneva appunto questo burro cacao e la crema mani che vi ho fatto vedere sicuramente mi prenderò qualcos'altro di apilità in futuro perché sono dei prodotti veramente veramente ottimi poi mi sembra di aver finito concludo con in bellezza con la maschera di clarenna che chi mi segua visto che avevo comprato un po di tempo fa trovandola in offerta ed è questa clarence lift affin ma affin scusate il francese come al solito mask intensi maschera intensiva insomma eccolo qui questo è il pack il packaging esterno è in un flacone da 75 ml io l'avevo trovata a circa 40 euro guardate qui che bel packaging lussuoso ve la faccio vedere l'ho utilizzata praticamente da quando vedete è abbastanza scavata da quando l'ho comprata l'ho utilizzata praticamente tutte le domeniche forse ho saltato una domenica cosa dire di questa maschera ha una texture particolare non saprei neanche come descriverla sembra quasi argillosa ma soffice perché contiene argilla comunque questa questa maschera e allora mi piace perché perché ha un effetto schiarente pazzesco cioè proprio ti cambia la ti toglie tutto il grigiore che c'è dalla pelle che c'è sulla pelle affina benissimo la grana del della pelle infatti viene venduta come maschera drenante che diciamo sgonfia i tratti toglie la stanchezza e su questo io concordo al cento per cento l'unica cosa l'unica pecca secondo me però non lo so fino a che punto io possa valutare questo perché nonostante l'età io non è che abbia tutte queste grandi rughe dice lift affin allora io non vedo tutto questo effetto antirughe in questa maschera né tantomeno tonificante però in effetti qui non è che la vende come maschera tonificante anche se ho letto alcune opinioni sul web che di alcune ragazze che dicevano che tonificava cioè per me non tonifica nulla il plus di questa maschera è questo effetto schierente questo migliorare la grana della pelle e togliere la stanchezza dal vivo dal viso scusate per cui io la promuovo perché queste sono delle cose importanti per me proprio perché tendo avere la pelle molto asfittica per cui dopo una notte insonne oppure dopo una giornata faticosa dove ho il viso molto stanco io mi faccio questa maschera e e la pelle è rinata comunque si tiene in posa dieci minuti si risciacqua e dopo di che proprio visibilmente subito lo vedete questo effetto cioè vedete qui proprio più roseo questa zona del naso e delle guance più rosea per cui promossa anche se vi dirò la verità non la ricomprerò perché secondo me si possono trovare delle maschere che abbiano questo tipo di effetto anche a meno cioè questa comunque una maschera che a prezzo intero secondo me sta sui 60 euro però vorrei provare qualche qualche altra maschera di claren che abbia più qualche effetto anti age diciamo comunque come vi dicevo dice di appunto viene diciamo viene descritta come maschera antigonfiore drenante è ricca di estratti vegetali che sono lippocastano che affina i contorni del viso e questo sinceramente è vero la callicarpa e lo zenzero e l'alchemilla questi sono gli attivi e poi contiene anche argilla che ha questo aspetto purificante per cui per quanto mi riguarda importante una maschera che abbia sia qualche effetto anti age anche se su questa io non lo vedo tantissimo l'effetto anti age abbia anche questo aspetto purificante perché comunque sì io ho una pelle matura però una pelle comunque mista per cui mi serve comunque qualcosa di base di purificante che mi esfoli bene la pelle e che mi tolga appunto tutto il grigiore dal viso che ho ecco direi che vi ho parlato di tutti i prodotti che questo mese appunto sono tutti top per cui sono molto contenta e non contenta non c'è un ciofecone non c'è un prodotto nì per cui sono molto contenta e soddisfatta dei miei acquisti infatti stranamente non sto acquistando più nulla e niente fatemi sapere nei commenti se avete voglia se avete utilizzato qualcuno di questi prodotti come vi siete trovate se siete d'accordo con me per quanto riguarda le mie opinioni se non siete d'accordo interagiamo comunque nei commenti che è la parte di video che mi piace di più ci sta comunque non essere d'accordo perché tutte noi abbiamo problematiche di pelle diverse età diverse esigente di esigenze diverse e poi anche gusti diversi onestamente per cui ci sta che un prodotto possa piacere a me e non possa piacere a qualcun altro scambiamoci quindi le nostre opinioni nei nei commenti se vi va vi invito a seguirmi su instagram dove magari giorno per giorno faccio delle piccole recensioni in mezzo però a tanto altro quindi non so se poi tutti vogliano sorbirsi anche l'altro che fondamentalmente poi è il mio bambino e la mia vita sostanzialmente ad ogni modo lì ogni tanto per esempio sui prodotti make up che testo parlo questo mese non ho inserito niente nei top del make up anche se li avrei perché avevo molti prodotti di skin card di cui parlarvi magari appunto dei prodotti make up ve ne parlerò su instagram oppure gli dedicherò il prossimo video non lo so oppure un video a parte vediamo e niente io ho concluso vi ringrazio per aver seguito questo video per la fino alla fine di tenermi sempre tanta compagnia devo dire che il canale è un ottimo svago per me mi tiene su col morale mi fa evadere dalla quotidianità per cui di questo insomma vi ringrazio all'inizio mi vergognavo adesso ormai non mi vergogno più di nulla e niente vi saluto nuovamente e ci diamo appuntamento al prossimo video ciao a tutte e a tutti e buon weekend ciao